Buongiorno e benvenuti in questo bellissimo video Allora, oggi è mercoledì 28 giugno E oggi andremo in Brasile Mi accompagnerete per tutta questa bellissima esperienza Che comunque già so cosa vuol dire andare in Brasile Ho preparato già le valigie La valigia a mano e tutto Ma anche solamente che noi partiamo alle 5 Sono le 2 e 9 Quindi tra 3 ore partiamo Da casa Poi andiamo all'aeroporto Solamente che verso magari le 3 qualcosa faccio la doccia Mi preparo e poi nulla Ci vediamo più tardi Vi mando un bacione e noi ci vediamo dopo Allora ragazzi siamo arrivati in aeroporto E praticamente c'è gente che mi sta guardando Tralasciando Appunto ora dobbiamo aspettare solo le 5 e mezza E dobbiamo aspettare fino alle 6 e un quarto che apre il check-in E poi dobbiamo andare in aeroporto e poi dobbiamo andare in aeroporto verso le 7 e un quarto così Quindi ci vediamo più tardi Ora stiamo mangiando la pizza No, che stai mangiando la pizza? Io no Non è vero, ciao Ma è vero Ma è vero C'è un groserlo Tutti Mi è groserlo Io non sto mangiando Io non sto mangiando la pizza Sto mangiando io ok Eh sì Mamma mia Allora Noi tra poco entriamo qui dentro E poi E poi Facciamo tutti i controlli eccetera E prendiamo il volo da Ancona a Roma Siamo arrivati in aereo Adesso Quello che porta Da Ancona a Roma E praticamente Boh Niente Non mi farò niente Vedere niente di questo viaggio Perché è corto E quindi Nulla Ciao Mi mando un bacio No Aterrati E ora siamo arrivati all'aeroporto di Roma Piancino Ora dobbiamo cercare il posto in cui dobbiamo prendere l'aereo Poi penso che prenderemo qualcosa da mangiare, da bere e salire Nell'altro è Ci vediamo Tanti Ciao Ho finito di fare i controlli Ora che sono arrivati a Roma E ora penso che andiamo a mangiare perché ho veramente un sacco di fave E nulla Ciao Ragazzi siamo già imbarcati nel volo che porterà da Roma Dall'aeroporto di Piancino A quello di Rio di Genero Non era una scorreggia tranquilli Era la plastica No perché dopo me lo scrivete al minuto C'era una scorreggia Non è così Era un rumore della plastica Questa qui Capitato Ok Siamo posizionati Abbiamo fatto tutto E niente Ora aspettiamo che il decogli Ragazzi mi sono appena svegliata Da una piuttissima dormita Che infatti Cosa non la schiena Noi ci portano la colazione E nulla Manca poco per atterrare in Brasilia Quindi Ciao Sono andata la colazione E c'erano un po' di cose Io ho mangiato saluti Pane e burro E ho avuto un succo Vi faccio vedere che colazione era Ecco questa era la colazione E poi ci vediamo Quando atterriamo a Rio Appena arrivata a Rio Siamo ancora dentro l'aeroporto Non sto inquadrando te Siamo ancora dentro l'aeroporto Mi sono andato in bagno E E ora praticamente Aspettiamo che ci vengano a prendere Dobbiamo prendere ancora le valigie E poi andiamo a casa Sono arrivata qua A casa mia zia E E nulla C'è mia cucina Alice Aspetta che Ve la faccio vedere meglio Alice Voglio beccar Alice Noi Ancora Un po' di Un po' di Un po' di Un po' di Dicenta C'è un po' di 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 Grazie a tutti.